A Fontanelle non è cambiato nulla o perlomeno a distanza di tempo sono ritornati quegli episodi di micro criminalità di cui tanto si era parlato in passato. Oggi, consigliere Pettinari, siete qui a ribadire la necessità di una maggiore presenza delle forze dell'ordine, soprattutto la richiesta di un posto fisso di polizia. Qui si spaccia droga tutte le ore del giorno. Abbiamo registrato case in cui persone sottoposte agli arresti domiciliari, nelle case popolari, occupate abusivamente, continuano a spacciare droga come se nulla fosse. Detengono gli alloggi popolari per attività illecite che vanno dall'usura, racket, gestione della prostituzione, utilizzano le zone limitrofe per detenere armi. Allora io chiedo questa volta al vicepresidente vicario di Regione Abruzzo, Lolli, mi auguro che sia diverso dall'Alfonso, perché l'Alfonso ci ha detto sempre no, di sfrattare immediatamente tutti gli occupanti abusivi, pregiudicati che sono nelle case di proprietà della Regione. E qui ce ne sono almeno 20, solo in via G2 per servizio. Altre 30-40 stanno a Arrancitelli. Poi alle forze di polizia di intensificare il controllo del territorio e istituire due presidi fissi di polizia, uno qui e uno a Arrancitelli, che possano fare quello che si faceva nel 2011. Poi una ronda nel quartiere. Nel 2011 si risolse la situazione, qui non si muoveva più una foglia. Oggi io sono solo, i cittadini non ci sono perché hanno paura. Questo è un altro dato età. I cittadini hanno paura, non ce la fanno più e hanno paura. Quindi dobbiamo necessariamente, le istituzioni devono tornare a farsi sentire. C'è anche un rovescio della medaglia però positivo in tutto questo, anche se non collegato direttamente a questi episodi di microcriminalità, ovvero l'inizio dei lavori in alcune palazzine a terra. Dopo tanti anni di battaglie e di sollecitazioni da parte nostra, sì, è un primo dato positivo, però adesso si sono interrotti questi lavori. Mi auguro solo per le feste estive. Hanno iniziato qualche giorno e si sono interrotti. Mi auguro che ripartano al più presto. Grazie.